Salve a tutti ragazzi, benvenuti nuovamente all'interno del mio canale. Io sono Mariano, ho 43 anni e con questo nuovo video voglio condividervi l'intervista fatta a Werner Kaiser, il CTO di Saphir, ovvero uno dei responsabili dell'azienda. Se avete ancora dubbi queste sono le parole proprio dell'azienda che vi mostrerà come tutto quello che Saphir e Zenich sta facendo è veramente realtà. Se non sei ancora in Saphir, se non conosci questo mondo, clicca nel link che metto nella descrizione e scoprirai cos'è Saphir e come puoi iniziare anche tu a condiare le tue coin in maniera automatica. Buon proseguimento. Perfetto. Quindi credo che come tutti conoscono che tutto sta muovendo in un modo molto buono, in tutte le direzioni. Dice che si sta muovendo in tutte le direzioni veramente molto bene. Dice chiaramente il 2021 è stato il primo anno e quando tu incominci a portare qualcosa di grande, farlo partire, ci vuole tempo, ci vuole molto sforzo. Quindi questo è stato il primo anno. So that means a lot of basic settings have to be built up before you really can make the big step and this big step will happen now this year, 2022. Ok, dice all'inizio ti servono tanti passi base, ti servono le basi, devi costruire queste, in modo per poi partire a fare le grandi cose, quelle che verranno fatti nel 2022. So a lot of things were prepared in the background, so over the next one, two, three months we will see massive things coming. Ok, dice adesso molte cose sono state preparate, potranno iniziare, nei prossimi due o tre mesi vedremo delle grandi cose, delle grandi entrate che stanno arrivando. E dice il motivo per il quale questo sta accadendo, perché la gente sta iniziando a capire sempre più che questa cosa è reale. You know, before I was joining, or I was coming in contact with Zanik Zafir, people have shown me a lot of different things on the market. Dice prima che di incontrare, prima che li venne, di stato mostrato Zafir, ci sono state mostrate un sacco di affari, un sacco di altre possibilità nel mondo cripto. Dice, alcune cose avevano delle connessioni, dei collegamenti con il marketing, altre con le cripto, e ci sono state mostrate delle cose. Dice, lui non si è lasciato stressare, si è preso tutto il tempo di verificare che cosa sono queste cose, cosa c'è dietro, cosa è buono e cosa non è buono. Perché, secondo il suo punto di vista, è importante farsi un'idea precisa. So, basically, four years long, people have called me, have said to have a look on this, have a look on this, the next sensation, the next revolution, whatever. Per quattro anni l'hanno chiamato, gli hanno detto di guardare questa cosa, vedi questo progetto, un progetto fantastico, è la rivoluzione. Continuavano a fare questo tipo di chiamate, proponendogli qualunque tipo di progetto, però. And they had to look on many things, not on everything I have to say, because sometimes when you hear the first sentence, you don't need the second one anymore. Dice, no, ha guardato un po' di cose, non tutto, dice, perché sì, qualcosa lo guarda, al primo sguardo capiva che non andava bene, qualcosa se l'hai guardato, non tutto. Dice che la sua fortuna, dice, guardando indietro adesso, è che non c'era la persona giusta, proprio la persona giusta che si intende di crypto. Dice, perché la gente spesso pensa che adesso che arriva le cripto tutto cambia, quello che valeva prima nel mondo della finanza è tutto cambiato, non vale più, e dice, no, secondo il mio punto di vista non è così. So for that reason, when I have had to look on something, I have my checklist in front of me, it goes through my checklist, and there are a lot of questions on it which have to be answered, or otherwise, you know, it's just a feeling, but they have to know it more in detail. And based on this checklist, I could not decide for something for more than four years, because a lot of questions were never answered. Ok, dice, lui, in base a quello che ha detto prima, lui ha una checklist, una lista che deve venire soddisfatta. Ci sono delle domande, quando lui riceve risposte, vedeva questi progetti e vedeva le risposte alle domande, faceva il suo check, il suo flag a questa lista, però questi progetti non rispondevano, non riusciva a fare la lista completa e quindi non potevano essere buoni per lui. Esattamente quello che ha fatto anche quando è arrivato al progetto di Zanik e di Zafir, ha guardato la sua checklist e andato a vedere cosa c'è dietro, cosa fanno, cosa non fanno, cosa c'è di concreto, ha fatto esattamente la stessa cosa. Dice, perché per lui la cosa importante per essere convinto del progetto era che questa sua checklist doveva essere soddisfatta al 100% e non era mai successo fino a quel momento. Dice, il primo punto era quello che la sua checklist è stata completa al 100% e il secondo è stato che più si addentrava e capiva qualcosa di più, si rendeva conto e si trovava davanti a un pezzo unico, a un pezzo d'arte. E dice, la terza cosa è che tutte queste cose gli venivano proposte in una maniera veramente unica e speciale. Dice, ha già iniziato a viaggiare più il mondo, si è ritrovato ad Hong Kong a vedere diverse cose. E durante questo periodo ha messo insieme un programma del suo gruppo tecnico. Io personalmente non sono un tecnico, non ho nessuna base dal punto di vista tecnico, io non lo sono. Dice, però dalla mia esperienza in tutti questi anni di attività ho veramente un ottimo buon feeling per quello che è buono e quello che non lo è. E poi a un certo punto è venuto a conoscere, si è confrontato con un ragazzo che aveva già nel suo... che era già un suo amico e dice, questo ragazzo è un genio assoluto. Of course I know that a lot of people are using such phrases very inflationary. Sorry, you use? I know that a lot of people are using such words, such phrases, very inflationary. Ah, ok, ok, dice, si sa che molte persone usano questi termini, dire questo è un genio assoluto, in una maniera molto facile, molto inflazionato questo modo di dire, però... Dice, però è così perché ero profondamente... sono rimasto profondamente impressionato da quello che questo ragazzo diceva. E dice, quello che è successo è che gli è stato mostrato Zenique. Dice, lui ha fatto le sue ricerche, ha visto quello che c'era e ha trovato quello che c'era dietro Zenique. E appunto quello che ha scoperto la persona che c'era dietro era questo ragazzo di cui parlava prima, del quale era rimasto così profondamente impressionato dalla sua bravura, lui era quello responsabile della parte tecnica. Quindi ha detto, se c'è lui dietro tutto questo, beh, per forza io devo prenderne parte. Of course you have in the meantime a huge team around him which are organizing everything. Naturalmente adesso lui ha dietro di lui un grande team che organizza tutto quanto e che lo aiuta nella creazione della parte tecnologica. Dice, quello però non era così importante perché nel mondo ci sono così tante persone, anche nel marketing, che vogliono fare qualcosa e vogliono raggiungere qualche cosa. Dice, però la grande differenza è che devi anche essere capace di fare, di raggiungere qualche cosa. Dice, se io guardo alle persone che sono nello staff di Zenique, che sono coinvolte, che lavorano lì, devo dire che è una cosa assolutamente pazzesca. Il livello è altissimo. So, of course, I think everyone have seen the basic presentation of Saphir. Sì, dice, probabilmente ognuno di noi ha visto la presentazione, quella base di Saphir. Sì, sì, sì. You have seen, of course, based on that the strategic partners like the LCS, Investment Banking Dubai. Dice, abbiamo sicuramente visto quali sono i partner strategici, questa MTS, la Banca di Dubai. So, of course, they have a very, very strong strategic partner, Sheikh Mohammed Al Maktoum. Dice, ci sono anche personaggi di un certo calibro, come Mohammed Al Maktoum, che è uno della famiglia reale. Sì, esatto. L'avevo già detto io, ma adesso dice che è una parte della famiglia reale. Avevo anticipato, sorry. A few people, of course, say sometimes, can it be like that? Is it true? Whatever. You can check it by yourself. Sì, se avete qualche dubbio in merito, potete fare le vostre ricerche e vedere che è proprio così. You can look in the company papers that's public in the internet, so there you see also the shareholders. So that means he's not just the shareholder, he's also not just the strategic partner, he's also shareholder of Suniki. Dice, potete andare a vedere sulla pagina web, ci sono pubblicato tutto quanto, loro non sono solo dei partner strategici, ma sono anche dei soci, quindi la potete andare a vedere tutto quanto, che è proprio così. And this is just a few people that the people know, but of course there are much, much more around. Dice, adesso queste sono solo alcune delle persone, ok? Non le può dire tutte, c'è molto di più dietro. Pedro Chiesa, for example, from Spain, so when you start to Google this guy who is that, it's getting more and more exciting, when the people understand that those people not just want to do something, they are able to do it. Ok, dice, per esempio c'è un certo Pedro Chiesa, che è uno spagnolo, se andate a vedere chi è, beh, sarete sicuramente molto accettati a capire, vi renderete conto di chi c'è dietro e capirete cosa vuol dire quando dice che questa è gente che oltre a voler fare qualcosa la sa davvero fare. Dice, questa conoscenza è assolutamente necessaria per poter mettere in piedi un piano come questo. E' anche logico che ci voglia del tempo prima che la gente comincia a capire di cosa si tratta e cos'è realmente. Dice, perché quando vai a vedere la presentazione, quella base, che vedi un sacco di disegni, un sacco di cose, Dice, una persona normale che arriva e vede questa presentazione, probabilmente si chiede, ma tutti questi simboli, tutte queste cose, ma a cosa servono? Dice, tutti questi pezzi li dobbiamo vedere come delle tesserine del puzzle, che sono tutte necessarie per creare il puzzle. e per creare questa cosa unica che è stata fatta. E' stata creata una versione automatica per la tokenizzazione. E probabilmente la tokenizzazione è prevista che sia la più grande industria del prossimo secolo. And for sure everyone have seen this forecast of the World Economic Forum for the next six years. Abbiamo visto... Sorry, the forecast? The forecast? Cioè abbiamo visto quelle che sono le previsioni per i prossimi anni dal punto di vista economico. Dice che la previsione nei prossimi sei anni il volume della tokenizzazione sarà di 24 mila bilioni di tokenizzazione, un volume altissimo. Dice che questo lo dobbiamo vedere semplicemente come un antipasto, come un aperitivo, perché i prossimi sei anni non sono niente, sono soltanto l'inizio. E se sei il primo, se noi siamo i primi, e questo è quello che sembra che siamo, no? In realtà siamo i primi. E' ovvio che non possiamo dire gli altri cosa stanno facendo e cosa stanno sviluppando, non possiamo essere lì. Però, da quello che sappiamo, Senik sembra essere la prima organizzazione, il primo progetto che è pronto e che ha una propria piattaforma, un proprio browser per la tokenizzazione. Cioè se sei il primo, che sei pronto in questo settore, che sei pronto a partire, sei il primo, chiaramente non ci sono limiti di crescita. Questa cosa cresce piuttosto velocemente. Come diceva prima, molte persone nel corso degli anni gli hanno mostrato un sacco di cose. E li parlavano di milioni, trilioni, decine di milioni, di trilioni, ma... E lui semplicemente chiedeva, sì, ma come accadrà questo? Come lo realizziamo? E non potevano rispondere perché era solo una visione. Ma in questo caso e nel nostro caso ha visto qualcosa di veramente reale, era proprio reale. Perché la maggior parte dei progetti di tokenizzazione sono progetti enormi. Quindi nessuno fa la tokenizzazione solo di un appartamento. Quindi cosa significa che se tu fai la tokenizzazione di 10, 20 grandi progetti di real estate, quindi del settore immobiliare... You are already a billion dollar company on the blockchain. Sei già, sei di fatto una compagnia di trilioni di... Un progetto che prevede trilioni di investimento. So it means you can go like that. E quindi le cose vanno in automatico con un schiocco di vita, verranno fatte così. But first, all settings have to be finalized. Ma prima di tutto i setting devono essere finalizzati, bisogna mettere delle basi precise. And this whole thing is a complicated thing. E sono cose complicate. So this we also have to learn, from my point of view, to see few things sometimes a little bit more relaxed. Quindi dice, dal mio punto di vista dobbiamo imparare a vedere le cose in una maniera un po' più rilassata. Because sometimes you know when they're, let's say, in February something should come. Diciamo perché, diciamo che, viene detto che in febbraio arriverà qualcosa. So based on all these things are connected together. Siccome tutte le cose sono connesse assieme. Sometimes something goes faster, like it was expected. E qualche volta le cose vengono spostate rispetto a quando ci si aspettava che sarebbero successe. Sometimes it's completely in time. Qualche volta sono esattamente in tempo, esattamente per la data prevista. And sometimes it can have a little bit delay. Ok, e qualche volta ci può essere un ritardo. Allora diceva, scusate ho sbagliato. Qualche volta si riesce a farlo prima rispetto alla data che è stata detta. Qualche volta sei esattamente al punto in cui lo avevi, avevi detto che questa cosa sarebbe uscita. ma può capitare che invece il progetto arrivi in ritardo. Dice, e questo è assolutamente rilevante se vedi la cosa da un'altra prospettiva. Because in the moment where something gets activated, it has to be 100%. Sorry, can you repeat this? In the moment where something gets activated, it has to be on a very high percentage. Si dice, nel momento in cui viene attivato qualche cosa, deve essere al 100% comunque una percentuale molto alta. So you know, of course, end of last year we had a big event here in the Butch Khalifa. C'è stato questo grande evento l'anno scorso nella Butch Khalifa dove c'erano anche Emilio Tuellino e Paolo. For sure you have seen the pictures from the Butch Khalifa with Zenik.com and the NFTs and everything. Si dice, c'è stata sulla Butch Khalifa, è stata fatta anche la pubblicità, è stata illuminata Safir.com e Zenik. E dice, affinché voi capiate, Safir è stata una delle poche aziende che è stata proiettata sulla Butch Khalifa. So this means this has a meaning. Questo ha un grande significato, c'è qualcosa dietro. So before that, of course, something much more important was happening, there was a very special meeting. Chiaramente prima è successo qualcosa di più importante è stato questo meeting molto speciale. Molta gente speciale e particolare è stata invitata da tutto il mondo. More than 40 family offices were in place. 40 family offices. C'erano 40 aziende e uffici diversi. So I think everyone in the call knows what the family office is, how much assets they represent in the background. Sorry, home? I think everyone in the call knows what the family office is, how much assets they represent in the background. Dice, se tutti sappiamo che cos'è un family office e che quanto riporta, quante persone vengono riportate sul posto. Then of course people with real influence, not with people that just think they have influence. Erano persone che veramente erano degli influencer, che veramente hanno un'influenza, non quelli che dicono di esserlo. So that means the interest is super high. Questo vuol dire che l'interesse in questo progetto è altissimo. Because those people, of course, which are anyway very wealthy, have their assets and here, you know, stuff whatever. So they know, of course, what is coming up in the future. Dice, queste persone sono veramente benestanti, sono ricche, hanno i loro assets in diversi settori e sanno che cosa, loro sanno che cosa è importante e cosa sta arrivando. Because it's their job to know. E il loro lavoro è di sapere. E siccome la tokenizzazione sarà il grande boom del prossimo secolo. So that means we are exactly in the right moment where we are right now. Noi siamo, questo significa che siamo esattamente nel momento giusto, quello in cui ci troviamo esattamente il momento giusto. So Senik is building on their systems as a hardware and research and development company. Dice, Senik sta costruendo il suo business dal punto di vista dell'hardware e della compagnia. And on the other side, of course, we have Saphir. Dall'altra parte c'è Saphir. Which is also based here in Dubai. Che è anche alla sede lì a Dubai. Which have the exclusive right for distribution of the Senik products and services for the part of recommendation marketing. Saphir ha l'esclusiva per la distribuzione dei prodotti di Senik sul mercato. So that means we are building up for Senik the community. Questo significa che stiamo costruendo la community di Senik. And this is a very important thing because basically in every crypto project the community decides if it will be successful afterwards or not. So basically, Saphir was starting in the end of 2020 with just a handful of people. Dice Saphir, è stato iniziato alla fine del 2020 con veramente poche persone. And of course, like I said before, it takes a little bit of time to really get it going. E chiaramente questo ha richiesto del tempo per iniziare a muovere la ruota. So and now we have reached around 400.000. Sorry? We have reached around 400.000 people. Wow! E adesso abbiamo raggiunto 400.000 persone. And this is just in one year. E tutto questo solo in un anno. E questo è una cosa importantissima per tutte quelle cose che stanno arrivando. You know, of course, the decentralized exchange, the beta version is planned into the second quarter of this year. E l'exchange decentralizzato è pronto e siamo quasi pronto e verrà messo sul mercato alla fine del secondo trimestre di quest'anno. Questo significa che se guardiamo nella visione, se dividiamo la visione di quello che abbiamo visto e che abbiamo fatto fino ad ora. In the moment where the decentralized exchange gets activated. Nel momento in cui questo exchange decentralizzato verrà attivato. I expect that we will start with around 1 million people which are using the services from the beginning, from the first day. Dice, io mi aspetto che ci sarà un milione di persone che useranno questo servizio. Quelle che già hanno iniziato ad usare questo servizio fin dall'inizio e poi arriveranno gli altri. Quindi arriveremo ad un milione di persone. Lui si aspetta un milione di persone. Dice, non è che cosa c'è di diverso da altri progetti che prima costruiscono tutto il progetto e poi vanno a cercare clienti. Qui. In the moment where the things get activated, there are already hundreds of thousands of people that will use the services. Dice, nel momento in cui il servizio verrà attivato ci sono già centinaia di migliaia di persone che usano e che vogliono usare questi servizi. So that means in this crypto world we are able together of course with the whole community to accomplish massive developments and massive things. Dice, questo significa nel mondo cripto che noi siamo in grado tutti insieme, tutto il team, tutta la community di soddisfare e di creare tantissime cose, tantissimi servizi. So the foundation for that of course is what Zalik is developing for the part of blockchain tech. La base chiaramente è quello che Zalik ha fatto per la parte tecnologica. So now of course in Zafir itself we have three different product categories. In Zalik ci sono tre diverse categorie. Energy tech, which is not launched yet. There are things in preparation. Poi c'è la parte dell'energy tech che ancora non è stata lanciata. Then we have health tech. Poi c'è quella che riguarda la salute. The first product was already released. E il primo prodotto è già stato lanciato che è iFiber. A lot of people have ordered it already because it's spectacular. Dice, questo progetto, questo prodotto scusate, è stato ordinato da tantissime persone perché è spettacolare. Dice, noi vogliamo dare soltanto prodotti che hanno un vero valore in modo che la gente quando li usa è veramente contenta e poi nel momento in cui viene la gente a ne parla, parla soltanto positivamente perché ha un feeling, un ottimo feeling. Dice, per quanto riguarda, quando tu porti un prodotto sul mercato, non è necessario che sia buono. Deve essere spettacolare, altrimenti non è sufficiente per avere successo. E poi c'è l'ultima parte che è quella della blockchain di Zenik. Sì, poi ci sono due prodotti, uno è l'hub fisico, quello che molti di noi anche hanno preso, che lo puoi comprare e ti arriva fisicamente a casa, ce l'hai proprio tu in mano. Dice, poi c'è l'altra possibilità che il minting in-housing vuol dire io non voglio avere a casa questo hub fisico, non lo voglio a casa mia, però posso mintare e questa opzione viene tenuta direttamente in Saphir. Dice, in tutti e due i casi, Saphir vi sta vendendo del hardware. Dice, è importante capire questo, che anche se uno si decise per house minting, quindi non riceve a casa fisicamente l'hub, non state comprando qualcosa in cloud, state comprando dell'hardware. Dice, esattamente, anche in questo caso c'è un hardware che voi comprate e poi viene collegato al house minting e rimane là, non l'avete a casa voi, ma è hardware anche quello. Significa che noi vendiamo hardware. Non vendiamo monete, non facciamo trading, non facciamo arbitrage, vendiamo hardware. E questa è una cosa molto importante che non tutti capiscono in un primo momento. Tutte le cose che gli sono state mostrate prima, quelle di cui parlava prima, tutte erano, parlavano di vendere, di fare trading, di fare arbitrage di monete. E qui c'era un aspetto che, c'era l'aspetto finanziario dietro. Ed erano dei business finanziari, economici. Noi qui vendiamo soltanto l'hardware, e l'hardware fa quello che deve fare. It's a big difference, not we are selling coins, the hardware is producing coins. Qui c'è la grande differenza, noi non vendiamo monete, ma l'hardware le produce. Queste monete hanno chiaramente un potenziale pazzesco. E c'è tutte quelle cose che vedete nella presentazione, l'exchange decentralizzato, il wallet decentralizzato, tutto quello che vedete lì, che ha un grande potere, fluisce tutto in queste monete. Questo significa che c'è un numero limitato di monete che possono essere coniate. Quindi quando tutte le monete sono sul mercato, tutte le monete che ci sono sul mercato, quando tu aggiungi a tutte queste monete, il valore di altre monete, come ad esempio tramite la tokenizzazione. So more and more value is added in the backgrounds, through turnovers, tokenization projects, this, 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 this. Sempre più valore viene aggiunto tramite la tokenizzazione o gli altri progetti che ci sono, questo o quell'altro. How this will influence the price development of the coin. Come influenzerà questo il prezzo di queste coin, di queste monete? Specifically when we speak about projects like that. Specialmente quando si parla di progetti come questo. So because tokenization, volume, volume, volume. Perché con la tua tokenizzazione ci sono chiaramente grandi volumi. A decentralized exchange like nobody have done it before. Un exchange decentralizzato come nessuno ha mai fatto prima. So where you can trade without wrapping and all this complicated stuff. Non avremo più bisogno del wrapping, non tutte quelle cose complicate che c'erano prima dovendo usare altre exchange. Non ci sono. Super low fees because it's running on the own blockchain. Blast, 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 blast. Le commissioni, le fees sono bassissime perché tutto gira e ruota sulla propria blockchain. Questo creerà un interesse pazzesco, enorme sul mercato. Because sometimes few people say there are already decentralized exchanges. Ci sono persone che gli consigliano, vabbè ma ci sono già degli exchanges decentralizzati. Like Uniswap or PancakeSwap or something like that. Come Uniswap o PancakeSwap, ce ne sono già. But then you have a little bit of a closer look to that. Then you have to ask yourself how decentralized they are, really. Però se guardiamo un po' meglio e osserviamo con più attenzione quanto sono decentralizzati in realtà. So Uniswap for example is running on Ethereum. So that means they don't even have their fee structure in their own hands. Dice per esempio Uniswap gira su Ethereum. Quindi le commissioni, le fees, non hanno una propria struttura di commissioni di fees. Sono quelle di Ethereum. You need a lot of third party systems like MetaMask that you even can work with that which makes everything super complicated. Quindi hai bisogno di altre applicazioni, di altre cose come MetaMask per poter convertire le tue monete. Tutto è molto complicato. You only can trade Ethereum based tokens, nothing else. Possono soltanto fare trading con, cambiare con i token di Ethereum. Con Ethereum non c'è altro modo, bisogna arrivare sempre lì. Tutti questi cambiamenti sono stati tolti. Se togliamo tutti questi passaggi, questi cambiamenti, quanto può essere interessante la cosa? E' solo una parte di questo. E' solo una parte, chiaramente dice, io potrei stare qui a parlarvi per ora. Ma guarda che... Well, you are speaking a lot and the people are hypnotizing on what you are telling. Well, but we could speak a lot and we could go in every single corner, everything. There is a lot of energy. There is a lot of energy in what you are telling. We can see the passion. We can see the energy of this project. because you are leaving, Sasha, Paolo, me, Mirko, we are leaving this project with you, together. And this is why you are speaking with this a lot of passion. Yes. Io parlavo italiano però Lino, perché Bruno deve tradurre. Sì, adesso Bruno traduce. Esatto, mi ero gestata anch'io. Lino diceva a Verna che... Lui sta parlando, perché Verna prima diceva, possiamo andare avanti a parlare per ore. Entro in ogni singolo angolino e parliamo per ore, vi parlo e vi parlo. Allora Zolino gli ha detto, certo, tu stai parlando e la gente è hypnotizzata da quello che dici, perché si sente la passione che metti. Noi tutti, io, te, Verna, Sasha, Paolo. È l'energia. È l'energia. È l'energia. Facciamo girare un'energia pazzesca e questa è data dalla passione che si mette e chiaramente ci sta incollando al video. Like I said before, we could go now to every corner, could have detailed looks, what is that, 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 that. Dice, potremmo, come dicevo prima, potrei andare in ogni angolo e dire dettaglio per dettaglio di qualunque cosa. But of course this would take hours. Ci vorrebbero ore. But anyway, when you have started yesterday, two weeks ago, whatever, I know it needs a little bit time to understand for what is that, what is that, what is that, but it will come automatically. È chiaro che se hai iniziato ieri o due settimane fa, tieni presenti che ci vorrà del tempo per capire cos'è questo e cos'è quello. Ci vuole un po' di tempo, ma state tranquilli perché questo arriva automaticamente. But of course I also would like to give you a few updates what will come so in the next weeks. Yeah. Yeah, yeah. Ci dà un po' di novità, un po' di aggiornamento di quello che arriverà nelle prossime settimane. So one of the super important things of course will happen in January. Una delle cose più importanti che succederà ancora adesso in gennaio. Dice perché fino adesso potete fare trading con Znick coin su Uniswap oppure su Pancake Swap. Ci sono tante cose che sono state preparate per gennaio. And few people also have asked all the time why the Znick coin is not listed on CoinGecko for example, or CoinMarketKit, why it's not there. Dice perché non. Moltissimi di voi e di noi abbiamo chiesto perché Znick coin non è listata su CoinGecko o da qualche altra parte, perché non c'è. That's a very simple reason. C'è una ragione molto semplice. In the moment where you want to be listed there, somewhere have to be public the source codes. Dice nel momento in cui tu vuoi essere listato lì, devi rendere pubblico la sorgente. Ho capito bene Mirko? The source code? The protocol. The protocol, yes. The protocol. And that this is public. Everyone. Devi renderlo pubblico. When this is public, everyone who knows how that works should just make a copy of the whole thing with one time pushing the button. Dice nel momento in cui lo rendi pubblico, c'è subito qualcuno pronto a copiarti quello che hai fatto. So, of course, they have put it in this development years. You know, for sure they have started 2018. Sai, hanno incominciato nel 2018, ci hanno messo anni per preparare questa cosa. So, to give someone else now, per one copy, this development, where we are not on the point to start to tokenize right now, so this would be not a good idea. Dice, loro lavorano, hanno il gruppo, il team tecnico, ha lavorato dal 2018 per preparare tutto questo. Se andare adesso a essere listati e quindi rendere pubblico tutto quanto e permettere agli altri facendo un click di copiare tutto quanto e noi non siamo ancora pronti con la tokenizzazione, non è una buona idea perché porterebbero via semplicemente il progetto. Ma alla fine hanno trovato una soluzione. Hanno trovato una soluzione, possono dare l'accesso a queste informazioni soltanto a persone che hanno ricevuto il permesso da Zenit. Cioè, non sono completamente pubbliche, soltanto alcune, un numero limitato di persone possono dare un'occhiata. So, based on that, we will see in January multiple listings on exchanges. Quindi, sulla base di questo, in gennaio verrà listata in più posti, ci sarà un allistamento multiplo. Quindi, automaticamente, questo avviene automaticamente al momento in cui tu sei su Genco, CoinGecko, automaticamente questo viene letto anche dagli altri, dalle altre pagine web e quindi sei listato in più posti. Questo è, ovviamente, un passo importante perché poi è per tutti gli altri visibili, è lì. Questo è un passo importante perché poi siamo visibili per tutti, ci siamo, siamo lì. So, then, of course, like we have also shown in Dubai on the summit, the Zenit Smart Chain. Chiaramente un'altra cosa che è stata mostrata anche all'evento in Dubai è la Smart Chain di Zenit. Zenit Smart Chain is the goal to activate the end of January. Verrà attivata alla fine di gennaio. Questo è il secondo livello dal punto di vista tecnico. Under the Smart Chain all tokens will be generated for the tokenization projects. E questa Smart Chain è stata creata per il progetto di tokenizzazione, avverrà tutto su questa Smart Chain. Adesso, sulla Smart Chain verrà aggiunto Zenit Swap. So, what is, like, the, I don't know, the small brother of the decentralized exchange? Dice che è come il fratellino piccolo dell'exchange decentralizzato. So, and this should be accomplished in the first quarter this year. Questo dovrebbe essere realizzato nel primo trimestre, quest'anno. And this is like Uniswap. È qualcosa di simile a Uniswap. Because few people were thinking in the beginning that our decentralized exchange will be like Uniswap. Perché la gente all'inizio pensava che un exchange decentralizzato sarebbe stato come Uniswap. No, it's not. It's a completely other level. Dice, non lo è. È un livello completamente diverso. And Zenit Swap will be like Uniswap. Il Zenit Swap sarà simile a Uniswap. So, this needs a little bit of time to build it up. Ci vuole un po' di tempo per creare tutto questo. Because your trades, they are of course, on the Uniswap. And for that, you have to put massive liquidity inside. Dice, ci vuole un po' di tempo perché ci sono dei costi per Suoniswap e devi mettere una quantità importante di... Tanta liquidità, sì. Come? Tanta liquidità. Sì, esatto. Tanta liquidità. Grazie. Because when you want a trading pair, for example, with Bitcoin, with Ethereum, with something else, you have to put liquidity behind all these tokens and coins, otherwise you cannot trade them. Dice, perché se tu vuoi avere delle coppie di trading come Bitcoin, Ethereum o qualunque altra coppia, devi mettere tantissime liquidità dietro, altrimenti non si può fare il trade. Lo scambio. Dice, quindi lo devi fare passo per passo, quindi il primo quarter dell'anno ci sarà Zenixwap. So then, of course, a question which gets asked, you know, many times. Una questione che gli viene fatta tante volte. quando è che mi arriva a casa l'app fisico, quando posso schiacciare i bottoni? Tutto quanto è stato preparato per questo. So, you know that a few people have got already devices when they were in Dubai at the summit. C'è alcune persone che erano a Dubai e hanno ricevuto questo device. e quindi hanno dato dei feedback, come funziona, come vanno, come sono i movimenti. So, and now the update was done. E quindi sono stati fatti degli aggiornamenti. Hardware is ready, the basic software is ready. L'hardware è pronto, il software di base è pronto. Questo software di base, il basilare, è veramente molto importante. Perché tantissime funzioni saranno a disposizione sin dall'inizio. So, like a non-virtual IBAN will come, decentralized exchange will come. So, that means this software will have to have the possibility to update itself all the time. Dice, ci sarà per esempio la possibilità di avere un IBAN, c'è l'exchange centralizzato. E la cosa importante è che questo software permetterà al vostro hub di fare l'aggiornamento in automatico. Ogni volta che c'è qualcosa di nuovo, lui si aggiornerà in automatico. So, that means in the moment that the people are getting all their devices, questo significa che ogni volta che qualcuno ha questo device, there will be also an additional letter to it, so there is described what is the function now, and in which time frames they can expect the next functionalities. Dice, quindi ci sarà un altro apparecchio che dirà quali funzioni saranno disponibili prossimamente e in quale periodo di tempo, in quale momento. So, middle of this month, we will do a beta test delivery. A metà di questo mese faranno una consegna beta. So, a few hundred people. E se voi siete fra queste persone. On different continents and also in, how to say, exotic countries, let's call it like that. A donna, non se voi siete fra queste persone, ma a un po' di persone in tutto il mondo, in differenti continenti, anche in continenti esotici, li ha chiamati così. Italy is exotic. We are exotic. You have to see it, it's true. Now, you know, we have a lot of customers, for example, in Nigeria, in South America. So, this have to get tested, this first delivery, the big one. Dice, ci sono molti clienti in Nigeria, in Sud America, e questi device test sono stati consegnati. Because during the delivery, the customer have to pay the VIT. Durante la consegna, i clienti devono pagare le tasse, la liba. So, that means test delivery, continents, a lot of countries. Because you have to be sure, before you send out thousands of devices, that this works perfectly. Devi essere sicuro, prima di mandare fuori centinaia di migliaia o migliaia di device, devi essere sicuro che questi funzionino perfettamente. Quindi, metà a metà del mese ci sarà questa consegna, questo beta test di questi device. So, in the afterwards, when everything is fine, it can be in a few countries, you have to correct something, but when it's fine, then the rest is getting delivered. Nel momento in cui queste persone utilizzano questi device e il feedback è positivo e tutto funziona come deve funzionare, allora anche gli altri verranno spediti. So, in this first big charge, there will be all people inside, which have ordered a physical device, until around summer, summertime. Ok, dice questo, da quando questi device verranno consegnati e la gente farà questi test, dovremmo arrivare più o meno in estate. And in the second big charge, this will be ready for delivery in March. There will be insights of the people from summer to the end of the year. Dice, poi la seconda tranche sarà dall'estate, dalla metà dell'estate fino alla fine dell'anno. So, then of course, debit cards. Ci sono poi anche le carte di debito. I think it also sounds great. È che è una cosa veramente grande, sì. It's already now on the final stage, so in the first quarter of this year, we will have a limited edition of this debit card. Dice, è tutto pronto, quindi nel primo quarter di quest'anno verrà emessa una limited edition, edizione limitata. So, a few thousand pieces, because it's older, have to be tested. Poche migliaia di pezzi, perché anche questi verranno testati. E nel secondo quarter verrà data la possibilità a tutti di averla. Luna, scusami, per chiedere una cosa, che questa è molto importante. La carta non è associata a terze parti, ma è proprio fatta da ZNIC, giusto per conferma. This debit card is not connected with third parts. It only works and runs on ZNIC, on their own smart chain, and only connected to ZNIC. No, this is the case with the virtual IBAN. So, the ZNIC debit cards, only a bank can issue a debit card. Okay, okay. Got it, thank you. C'è una banca, è collegata. Avendo un IBAN, per forza, deve essere collegata. And, of course, this is an important thing, because a lot of people, when they have crypto assets, they also would like to use it in their daily life. Questo è importante, perché quando la gente ha degli asset di crypto, ha della monstera di crypto, vuole usarli nella vita di tutti i giorni. So, that means I have cryptos, which cryptos ever, so put them on the cards, get their transfers for euro, for example, 2,000 lira, whatever, so they go to the next bakery and buy bread. And this is exactly what is important for the crypto world. Great. Praticamente, è importantissimo, perché con questa carta, tu la puoi usare come un banco, ma qualunque, tu hai i tuoi asset di crypto, che vengono convertiti in euro, in quello, l'ira turco, quello che è dove stai andando a comprare, vai in panetteria e paghi con la tua carta, senza nessun problema. So, a lot of other things, of course, are coming in addition. Ce ne sono diverse altre cose. Sorry, a lot of things. A lot of other things, of course, are coming in addition. Small things, big things. Ci sono tantissime altre cose che stanno arrivando, grandi cose, piccole cose. And, of course, a lot of people would wish sometimes that they would have more communication. E chiaramente molta gente vorrebbe poter avere più comunicazione. But the thing is, we are doing it like that, or we try to do it like that, just to communicate something when it's done. Però il modo che abbiamo noi di lavorare è questo, noi comunichiamo soltanto e diamo informazioni quando le cose sono fatte. The best way. The best way. Of course, you could post theoretically every day something. Potremmo certamente pubblicare tutti i giorni qualcosina. The weather is fine, something like that. Oggi è un bel tempo, come state, qualcosa del genere. But it has to have a value. So, when things are very close to be finalized, or they are already finalized, then a boast is going on. C'è però quello che diciamo, noi vogliamo che abbia un valore. Quindi, quando siamo molto vicini a aver finalizzato il nostro obiettivo, quando le cose sono finalizzate, allora le comunichiamo. But in the background, you can be sure that a lot of people are working on the things. Ma per quanto riguarda il background, potete essere sicuri che ci sono tantissime persone che stanno lavorando per fare il meglio? Also, of course, on the preparations for the tokenizations. E lavorano anche alla preparazione della tokenizzazione. So, in the moment where everything is done from the preparation phase, then we don't have to wait to find tokenization projects or something like that. Because there are a massive number of projects on the table already. Perché ci sono un numero incredibile di progetti sul tavolo, già adesso. So, nobody has to have fear that we will run out of tokenization projects. Ok, nessuno deve aver paura che ci si troverà senza progetti di tokenizzazione. So, also, the white paper is close to be ready. Anche il white paper è quasi pronto. Just as an additional information. Un'informazione addizionale in più che ci vuole dare. So, Znick itself never had the white paper. Znick non ha mai avuto un white paper. White paper è il documento che spiega la finalità, chi sono, cosa fanno. Qualunque progetto di crypto lo deve avere. Ma Znick finora non l'ha avuto. So, a white paper, so, the most white papers were coming up in this crypto world in the year 2016-2017. Questi white papers sono usciti quasi tutti nel mondo cripto tra 2016 e 2017. So, for these ICOs. Per questi ICOs. So, that means, someone has said they have a vision, revolution, whatever. Put it on a white paper. That is called white paper. And there is my vision written down and that's it. And for that reason, now we collect money or something like that from the market. And hopefully, somehow it will happen. Ok, dice, in realtà, questi white paper, che sono stati fatti a 2016-2017, cosa ha fatto? La gente ha messo la propria visione su questi documenti. Ha scritto tutto quello che avrebbero voluto raggiungere. Ok? Però era solo la visione. Il momento in cui l'hanno scritto, poi, dice, ok, adesso raccogliamo i soldi per realizzare questa cosa. So, that means a white paper is a letter of intent. Il white paper è una lettera di intenti. So, there is no legal consequence when they are doing it not afterwards or something like that. It's just, this is the vision. Hopefully, it will happen. In realtà, questo white paper non ha conseguenze legali, non è qualcosa che ti lega, non è qualcosa che ti dà degli obiettivi. C'è semplicemente scritto qual è la tua visione, quello che vorrei fare. But the reason Sinek never had the white paper, because it was never the plan to make an SEO or collect money from the market. Dice, il motivo per cui non abbiamo fatto un white paper è perché non avevamo nessuna intenzione di fare un SEO e di raccogliere soldi dal mercato. Dice, quello che c'era, era un documento interno dei promotori e della squadra tecnica, dei tecnici. But of course, a lot of people have asked over the last few months where's the white paper, where's the white paper. Dice, siccome molta gente negli ultimi mesi ha continuato a chiedere dov'è il white paper, dov'è questo white paper. For that reason, they have adapted now this project paper to a white paper. Perché la ragione è che pensavano che il white paper fosse il progetto, il documento del progetto stesso. There will be two white papers, one is the ecosystem of Zediki itself, and the second one will be the white paper for the tokenization process. Dice, ce ne saranno due, uno è quello dell'ecosistema di Zediki stesso, e l'altro, il white paper, sarà quello del progetto di tokenizzazione. So this first white paper about the ecosystem is basically ready. Quello che riguarda l'ecosistema di Zediki è quasi pronto. E faranno un'edizione per dare questo, per rendere accessibile questo white paper. It's in review right now for one of these big four. Dice, sì, è in revisione adesso da una di queste persone che fanno le revisioni. So that means from a, how to say, an independent institution to get it checked, is it sustainable, economy, whatever. Dice, questo è un'istituzione indipendente che fa un check, fa una revisione di quello che c'è scritto dentro e darà al proprio opinione che è sostenibile, che è un progetto valido e quant'altro. To reconfirm the sustainable of the whole project, and then it has a value. Dice, per riconfermare la validità e la sostenibilità di questo progetto, e solo allora avrà veramente un valore. So of course this review process you cannot speed it up, it takes what it takes, but we expect that it could be finalized end of January. Ok, dice, questo tipo di progetti non li puoi spingere, non li puoi velocizzare, però sta arrivando al termine e loro suppongono che per la fine di gennaio sarà pronto. But anyway, in the meantime, everything is visible, everything is transparent, you have the block explorer, you can look at everything, so everything is completely open. Dice, comunque, tutto è chiaro, tutto è mostrato, è tutto alla luce del giorno, potete andare su Block Explorer, potete vedere qualunque cosa, potete comunque verificare voi stessi la validità del progetto. E questa è la ragione per cui stiamo crescendo in questo modo. Perché, dice, molte persone di esperienza che sono dietro, come me, they are coming back from their retirement, did you say? Ah, sono alcune di queste persone, sono persone che non avevano in mente di fare nient'altro e si sono rimesse in attività dopo essere andate già in pensione. Perché hanno capito, benché fossero già a posto, non avevano nessuna intenzione di tornare a lavorare, ma hanno capito che questo è qualcosa di reale. So, of course, you also have seen, a few days ago, we have sented out incentive. Abbiamo visto che qualche giorno fa hanno mandato fuori degli incentivi. So, that means, based on new lines from the 7th of January until the staking, the start of the so-called staking tips, there is an incentive competition. C'è una, dalla fine di gennaio, dal metà di gennaio, fino a quando ci saranno gli staking, all'inizio degli staking, c'è una sorta di gara, di competizione. So, if you have not seen it, have a look. Se non avete ancora guardato, andate a dare un'occhiata. And the incentives will be AVENOQ token. E questi incentivi sono in AVENOQ token. Which could get very interesting. Che potrebbero essere davvero interessanti. So, you know that we also have presented it in Dubai on the summits. Questo è stato presentato anche al summit di Dubai. That a few companies have decided already to move from other blockchains to the ZANIC blockchain. E' già accaduto che alcune società, alcune aziende, si sono spostate da altre blockchains, si sono spostate sulla blockchain di ZANIC. Because they, of course, were allowed to have a look on the source code. And this will happen in the future, from my point, a few many times. Everyone who sees the technical data. Dice, sorry. Everyone? Everyone who sees the technical data and everything is clear. Dice, queste persone si sono spostate perché hanno avuto l'opportunità di dare uno sguardo alla sorgente tecnica. che hanno potuto guardare, queste persone se ne intendono e sanno di cosa sta parlando. Quando quelli che hanno potuto vedere realmente di cosa si tratta, si sono spostate subito. Tupan, you can google what it is. This is a huge stuff. They will move from the Wave blockchain to the ZANIC blockchain. The Google stuff? Not Tupan. Not Tupan. Tupan è l'altra azienda. Ah, ok. Dice, anche questa azienda da Tupan si sposterà dall'altra blockchain. in dove si spostano sulla blockchain di ZANIC. But you can google what is Tupan and what they have done and what they are doing. Ok, now I understand. Potete andare su Google e guardare cos'è Tupan e vedere chi è e che azienda è. And then of course the other one is Avinok, also moving from the Ethereum blockchain to the ZANIC blockchain. Dice, la prossima è Avinok, si è spostata dalla blockchain di Ethereum sulla, su questa nostra blockchain, su ZANIC. And this is also something from my point of view that we will see many, many times in the future. Dice, questo secondo il mio punto di vista è qualcosa che vedremo tante altre volte in futuro. Dice, molti altri progetti e aziende molto grosse che sono sulla blockchain di Ethereum si stanno spostando sulla blockchain di ZANIC. E questo chiaramente dà un valore massivo alla moneta ZANIC. Perché questa moneta ZANIC sta al centro di tutto quanto. Adesso si stanno preparando alla partenza dello staking di Avinok, del token Avinok. And of course I don't know who in the call is how experienced in this crypto world. Chiaramente non si sa com'è l'esperienza di questa cosa nel mondo cripto. Ma lo staking è un gigante, è un'attività gigantesca nel mondo cripto. So that means you have the possibility, for example, you buy a specific token, you lock them up for six months, one year, three years, five years, ten years, whatever. Questo significa che cosa fai? Compri una moneta e hai la possibilità di investirla, usiamo questo termine, per un anno, due anni, tre anni, dieci anni, quello che vuoi o che è programmato. E per questo periodo in cui blocchi questi soldi, vieni pagato. Staking profits. Sono i profitti dello staking. Se ti è piaciuto questo video e vuoi avere maggiori contenuti riguardo Saffir, riguardo la crypto, riguardo Business Online, ti consiglio di iscriverti al canale, di attivare la campanellina per ricevere le notifiche sui prossimi video che caricherò all'interno del mio canale. Con questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Un saluto! Un saluto!